Ci troviamo fisicamente a Colleferro nello Smart City Lab. Lo Smart City Lab è un laboratorio basato in chiave Opera Innovation che è stato finanziato e realizzato grazie a un progetto di ricerca sul PORFES 2014-2020 sui bandi della Regione Lazio sul riposizionamento competitivo. Uno degli obiettivi era la realizzazione di un prototipo modulare in legno, sostenibile e smart che è effettivamente poi il prototipo in cui ci troviamo in questo momento per fare questo intervento. Sono Niccolò, il CEO di Senseworks, che è una start-up innovativa nata ad inizio di quest'anno come spin-off di un gruppo industriale che è Grivulcano Technologies che ha come focus la realizzazione di una piattaforma IoT fortemente verticalizzata sul monitoraggio e controllo da remoto di infrastrutture. Abbiamo realizzato questo plastico attraverso una serie di software di modellazione grafica 3D e attraverso l'utilizzo di tecniche di stampa tridimensionale.